Oggi andiamo a provare l'hamburger confezionato dell'MD Ah, here we go Cheeseburger 2,59€ Eh, costosino, eh Veccaci qua Due minuti in microonde Però prima unboxiamolo È bello grosso, eh Allora, eh Queste strisce sono palesemente fatte a macchina Il formaggio è spiaccicato sotto Vabbè, schiaffiamo il microonde e vediamo cosa succede Oh, mio Dio Che è successo? Ma perché il formaggio si è liquefatto? Il sopra non è cambiato Il sotto è sprecevole L'odore non è così male Perciò, ragazzi, buon appetito Oh, non è ignobile Sa un po' di laboratorio di metanfetamina Però un po' la carne si sente Il pane non è neanche sudato sotto Perciò, hamburger 3,5€ Approvato